Andre ma... Non mi non mi subano No, volevo solo sapere come stai perché ti vedo un pochino giù di morale Ho messo una foto Ha preso 10 like 10 like? Ma neanche mia madre prende 10 like Ho capito, vabbè, ma... Vabbè, 10 like, vabbè, ma poi cosa te ne frega? Ma Marco, la vita oggi è un'altra, non è più come una volta Cioè io voglio diventare come Gianluca Vacchi, voglio prendere i like Mettere le storie, le tipe, i soldi Allora, dovresti essere primo senza camicia in questo momento Dovresti ballare, avere delle tipe intorno Ma non fare dell'ironia, non fare dell'ironia Ma non faccio dell'ironia È veramente una giornataccia Ma, vabbè, una giornataccia, sì sì, immagino, no no, proprio una giornataccia Con tutti i problemi che ci sono nel mondo Io adesso la tolgo questa foto Ma ho capito, ma con tutti i problemi Perché 10 mi piace Toglila, toglila, no, toglila Lo fanno apposta, lo fanno apposta Sicuramente No, no, ma ne sono certo Lo fanno apposta, questa società lo fa apposta Ma tu lo sai che è stato A non metterti il like oppure no Perché sicuramente qualcuno non te l'ha messo apposta Quella la con cui uscivo Che lei è una di tanti Non te l'ha messo Non metteteli like Ah, mannaggia, guarda È proprio una brutta vita, Andrea È una generazione sbagliata Sì, no, no, no È una generazione sbagliata Perché non scelgono di metterti il like Il successo passa da qui Lo vuoi capire, ma? Dal like Dal cuoricino su Instagram Ma non solo Da che cos'altro? Allora, racconta Mi sovii Sono lo specchio della società Hai capito? Eh sì Hai capito 10 like Io non lo accetto Io non lo toglio Ascolta Quanti like hai bisogno Per far sì che tu stia meglio? Sotto i 100 like Non c'è nessuno 100 like Ah, poi un'altra Un'altra Sai Andrea Quello stronzo Là Il mio amico Ma no, perché? Mi ha defonurato Mi ha tolto il follow Ma pensa Mi ha tolto il follow Guarda che è veramente Un nemico ormai Cioè una persona Ma come puoi fidarti di uno Che ti toglie il follow Ma Paolo Fox Sì? L'aveva detto Nell'oroscopo Ma dai L'aveva detto Ma sai che adesso C'è anche Instagram Paolo Fox Lo seguo Lo segui? Ma lui non mi segue Perché non ti segue Paolo Fox? Perché? Fallo l'oroscopo Non ti segue Non lo so È inspiegabile È una giornata Mi dispiace Quindi 100 like Hai bisogno Almeno 100 like Almeno 100 like Non uscire di casa Andre guarda Io voglio che tu stia bene oggi Voglio che tu stia bene Quindi io Metti un like Ti metto un like Ma se me lo permetti Io vado Visto che venerdì sera Salice qua c'è un sacco di gente Io vado a cercarne altri 99 Per te che ti mettono un like Grazie Marco Ma sicura Andiamo insieme Andiamo insieme Andiamo insieme Grazie a tutti Grazie a tutti